Sono le 18.08 di mercoledì 11 marzo 2020 e come vedete Cecina è semideserta. Le nuove ordinanze appunto impongono ai commercianti di chiudere i negozi, le attività alle 18 e c'è un clima quasi surreale per questa cittadina. Noi soprattutto che siamo abituati a viverla 365 giorni l'anno. Si tenta di essere normali il più possibile ma il clima che si respira purtroppo non è questo. Buonasera, allora cosa pensa di questa situazione? Ho sentito un 84enne dire che una situazione del genere non l'ha mai vista. Allora quando c'era l'asiatica, quando c'era la spagnola, questa situazione qui non c'era. Noi che abbiamo superato i 70 possiamo dirlo ma così c'è qualcosa sotto, non me la raccontano. Tutte queste morti che ci sono state? Allora i morti mia cara signora è normale, c'è una patologia. Prima, è vero Fabrizio, prima c'è qualcosa. Lei invece cosa pensa di questa situazione? Io penso come il mio amico che si sta facendo un po' una psicosi, si sta scatenando una psicosi mediatica perché si sparano numeri 600 morti, ieri sono morti 180 persone. Ma senza fare nessun tipo di selezione, cercare di capire, queste persone erano già ricoverate, avevano già delle problematiche, avevano già delle gravi malattie. Non si può dare la colpa al coronavirus se uno è metastatizzato, parliamoci chiaro. Io vorrei sapere dai media quanti sono quelli sani che sono deceduti a causa del coronavirus. Questo dato nessuno lo dà. Certo, abbiamo capito benissimo il vostro punto di vista e vi ringraziamo. Cosa pensi di questa situazione strana per noi soprattutto? Intanto ti chiedo, sei un lavoratore, uno studente? Sono studente universitario, studiavo a Pisa fino a tre giorni fa. Quindi fermo anche tu dagli studi, come tanta gente ferma dal lavoro. E cosa pensi? Cosa pensa un giovane di tutta questa situazione? Sinceramente penso sia esagerato tutto ciò perché chiudere tutto e non far uscire persone per quanto quasi un mese è un po' eccessivo. Basta. Lei è la mamma? Lei cosa pensa? Cioè quando suo figlio è rimasto a casa, anche io ho due bambini che vanno a scuola, si è rilassata o si è agitata ancora di più nel momento? No, sinceramente io mi sono agitata ancora di più perché io lavoro invece a Livorno, quindi prendo il treno tutti i giorni, andata e ritorno. E quindi per me è difficoltoso. Ho tre figli, oltre a lui un altro ragazzo di 18 e la piccolina di 10, tutti a casa. Quindi sono preoccupata e mi piacerebbe avere dei chiarimenti un pochino più chiari da parte delle istituzioni, capire meglio la situazione. Visto che ti trovo preparata in ambito di figli, hai sicuramente, diciamo, sei venuta a conoscenza del fatto che molti istituti si stanno, stanno facendo formazione tramite appunto le piattaforme online. Cosa ne pensi di questa soluzione? Se voi come famiglia siete già partiti? Allora, ancora non siamo partiti perché appunto lui a livello universitario credo che parta fra qualche giorno. La piccolina, siccome è all'elementari, facciamo tutto per ora tramite Whatsapp. E invece l'altro, sì, che ha 18 anni, non studia e quindi ancora non, cioè, non so per quanto riguarda le piattaforme, è lui, diciamo per ora, quello che sta aspettando dall'università. Come è adesso la gestione delle attività? E cosa ne pensa, cosa ne pensa di queste misure adottate sia dal governo? Se si deve fare, si fa. Speriamo che si risolva il prima possibile. Di questa emergenza cosa ne pensa, senza condizionamenti, diciamo, esterni? Io penso che abbiano fatto bene a prendere queste misure perché se finora non si è risolto nulla, anzi aumentano. Penso che sia la miglior cosa a provare per vedere se si riesce in poco tempo. È inutile portarla alle lunghe e poi si risolve nulla. Certo, anche noi si chiude ora, insomma, i disagi ci sono per il lavoro, per tutto. Noi, ai tre giorni non vale nemmeno la pena. Ora è nudo, ma all'altro si chiude proprio del tutto perché è inutile. Tanto la gente non esce, è inutile stare aperti. Pagare il personale e tutto quanto, noi non ci si fa a stare aperti. Con l'affitto ci sono ragazzi, ci sono 4-5 ragazzi al lavoro. Buonasera a te, intanto buon lavoro. Allora, dici la tua opinione su questa situazione, su questa emergenza. Ma io non saprei cosa dire perché se Dio qualcosa, secondo me, hanno sbagliato. Secondo me, ora hanno fatto più danni che altro perché dovevano chiudere i negozi e tutto quando l'hanno saputo. Se stavano chiusi, guarda, si sta chiusi una settimana, dieci giorni, può darsi che era passato tutto. Ora è venuta gente da fuori, gente hanno chiuso, secondo me hanno creato più problemi che altro. Quindi secondo te c'è stato un intervento tardivo, doveva essere... Sì, ma in tutti i posti. Dovevano fermare le persone dove c'era il rischio, farle rimanere a casa. È inutile ora chiudi le scuole, chiudi i negozi, chiudi tutti. È un danno per la gente, per tutto, anche per i negozianti, per tutto. Perché chi ha un'attività e c'ha dei dipendenti, che poi arriva a fine mese e c'ha da riscote, se si va avanti così è un problema. Ti ringrazio tanto, buon lavoro. Grazie. Cosa ne pensi di questa situazione? La situazione è pericolosa perché la gente non ha tempo di andare a lavorare, do uscire e tutti rimanono a casa. Anche il lavoro, la gente non pensa più di andare a lavorare. Cosa ne pensi di questa situazione, tu, da cecinese proprio doc? Tutti chiusi, mai vista cecena così. Logicamente si prende precauzioni in tutte le maniere. Mascherine, chi le porta, chi non le porta, si sta bene attenti a non stare vicini. Però un po' d'aria bisogna prenderla. Non ci si può rinchiudere proprio in casa del tutto. Si va dove c'è meno gente, si cerca insomma di prendere ognuno le sue distanze. Si spera in questo mese che si riesca a uscirne fuori. Poi si vedrà. Cosa pensa di questa situazione e soprattutto come vive lei le sue giornate? Praticamente sempre a lavoro. La situazione è surreale, non c'è più nessuno. Ci vive, sembra quasi un bombardamento. Le mie giornate le vivo a casa, fondamentalmente a cane. Porto a fare una giratina a cane. E basta, non si fa altro. Pensa che queste misure siano consone comunque a fermare la propagazione di questo virus? Crede davvero in questo virus? In linea generale, le sue impressioni? Dalle cose che hanno messo in moto, penso proprio che sia una cosa seria. E quindi penso anche che l'isolamento sia l'unica cosa che possa funzionare. Lei ha paura? Si. Come vivi questa situazione? E cosa ne pensi? Un tuo parere personale? Un po' destabilizzante, sinceramente non lo so. Io sono di quelli che va sottovalutata la situazione. Come vivi le tue giornate? Lavori? Sei fermo dal lavoro? No, io vado al lavoro con estrema ansia, tra l'altro, perché adesso c'è... E niente, mascherina e boh. Le persone come hanno reagito a queste nuove norme sull'ingresso in farmacia in questo caso? E come voi gestite i rapporti appunto con la clientela? Dunque, le persone ieri, lunedì e martedì sono state molto agitate. Oggi sono un po' più tranquille con mascherine, eccetera. Agitate perché c'è stata una corsa ai disinfettanti, alle mascherine che non si trovano più. Quindi la situazione è tragica. Anche perché in farmacia, che è un posto esposto, dovrebbero esserci almeno mascherine e guanti. Pronto, unità di crisi? Allora, guardi. Allora, io le leggo quello che è il DPCM in relazione all'articolo 1. Lettera D. Allora, le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse esclusivamente a condizioni che sia possibile consentire rispetto della distanza interpersonale di un metro. Quindi è possibile comunque all'interno del territorio poter svolgere attività motorie, purché siano rispettate tutte quelle che sono le condizioni, ovviamente, del DPCM ultimo. Gli spostamenti sono limitati perché il DPCM è chiamato, come le sa, hashtag io resto a casa. Di conseguenza, le esigenze e le necessità di spostamento devono essere limitate, motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Motivo per cui sono proprio limitate le necessità di attività motoria esterna. Siamo con Filippo Ciampini. Allora, Filippo, raccontaci come è organizzata l'unità di crisi. Allora, il Comune di Cecina è da due settimane che ha istituito l'apertura dell'unità di crisi del centro operativo comunale. Siamo stati uno dei primi comuni, penso, della Toscana a aver aperto questo centro, soprattutto nei confronti dei cittadini che chiamano praticamente a tutte l'ore. Siamo attivi 24 ore su 24, dalle 8 alle 20 con presenza fisica e dopo con reperibilità anche notturna. Noi siamo, diciamo, un po' il front office rispetto alla cittadinanza, a tutti coloro che hanno bisogno di capire come evolve questa emergenza sanitaria e rispondiamo a centinaia di chiamate tutti i giorni, da attività commerciali, cittadini che vogliono spostarsi e siamo un gruppo di nuovi amministrativi, più ci sono altri due colleghi, diciamo, tecnici. Siamo dislocati qua all'interno e quindi con divieto di accesso a non addetti dove evitare anche noi di eventualmente essere contaminati, diciamo così. Qua c'è la sala dove si riunisce l'unità di crisi con il sindaco, tutti i dirigenti, la giunta e via dicendo. Scusate la voce ma rispondiamo a centinaia di chiamate al giorno e quindi non mi torna più. Anc'oggi potete sentire sottofondo i colleghi che sono lì, ci sono tre scrivanie che facciamo il verbale di tutte le chiamate, le segnalazioni, cerchiamo di andare incontro ai cittadini e di risolvere i problemi, ci annotiamo tutto, li richiamiamo e cerchiamo di tranquillizzare tutti affinché questa emergenza sia quantomeno più sostenibile da parte di tutti. Nella giornata di oggi la motivazione delle chiamate qual è? I cittadini ci chiamano per capire come si possono spostare all'interno sia del territorio comunale che verso altri comuni, quali sono le casistiche, motivi di salute, andare a trovare i nipoti, andare a pranzo fuori per il lavoro e quindi noi cerchiamo di dare tutte le informazioni, scarichiamo i modelli di autocertificazione che sono obbligatori per tutti, per spostarsi sia all'interno del territorio comunale che fuori. Ci chiamano le attività commerciali per capire come deve essere rispettato i dettati del DPCM per gli orari di apertura bar e ristoranti, gli centri commerciali, quali sono i negozi che possono stare aperti e chiusi, se ci sono casi perché qualcuno è preoccupato, queste sono le domande che per lo più ci vengono fatte. Siamo qui con il sindaco di Cecina, Samuele Lippi. Allora sindaco, come viene gestita questa emergenza e quali sono le sue impressioni? L'impressione è che la situazione sia piuttosto complicata, vedendo cosa succede al nord siamo molto preoccupati. Qui dopo domenica c'è stata un'affluenza particolarmente abnorme, un'occupazione nel lungomare, veramente fuori da ogni logica, ha fatto un provvedimento restrittivo che ha portato le persone a comprendere, e mi sembra di aver notato una ragionevole comprensione della razza e della norma, insomma del decreto, che invita tutti a sta a casa. Quindi questo è un obiettivo. Poi ci sono delle interdizioni nel decreto che sono roba incomprensibile, probabilmente è scritto un furia, riprendendo pezzi dei decreti precedenti delle zone rosse. Insomma ci sono delle interdizioni che da una parte si dice che dovete stare a casa, non si può uscire, se non per comprovati motivi, con l'autocertifiezione, e da quell'altra si dice che si può andare a fare passeggiate, insomma quindi diventa un po' complicato. Comunque ora io sto valutando misure ancora più restrittive per appunto non tenere e evitare il più possibile il contagio. Ci sono molti negozianti che grazie alle disposizioni del decreto appunto hanno chiuso le loro attività alle 18, ma ce ne sono altre tanti che l'hanno deciso in maniera autonoma? Sì, questo è un altro fatto importante. Chiaramente la libera impresa e l'attività economica e imprenditoriale subisce un danno economico immediato rilevante e quindi i primi giorni insomma c'erano molte più resistenze, invece diciamo ora c'è una consapevolezza diversa che porta appunto anche a un'autoregolamentazione più stringente, quindi questo è un fatto positivo. Sono le 7.13 di mercoledì 11 marzo e come vedete Cecina è completamente deserta. Le nuove disposizioni appunto impongono di chiudere le attività alle 18. Molti commercianti, come abbiamo già detto, hanno deciso di chiudere autonomamente le loro attività in anticipo e comunque per tutta la durata della giornata lavorativa. Speriamo che questa situazione cambi in maniera veloce e ricordiamo a tutti di rispettare le regole che ci sono state imposte. Grazie a tutti.